Di Eugenio Montale, retrocedendo. Il tarlo è nato, credo, dentro uno stipo che ho salvato da sgombri e inondazioni. Il suo traforo è lentissimo, il microsuono non cessa. Da mesi, probabilmente, si nutre del pulviscolo frutto del suo lavoro. Si direbbe che ignori la mia esistenza. Io non la sua. Io stesso sto trivellando a mia insaputa un ceppo che non conosco e che qualcuno osserva, infastidito dal cri-cri che nesce, un qualcuno che tarla inconsapevole del suo tarlante, e così via in un lungo cannocchiale di pezzi, uno nell'altro. Grazie. 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 Grazie.